Vittoria pesantissima, in piena emergenza, per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che supera Trento in 4-7 a domicilio e supera Scandicci, portandosi temporaneamente al terzo posto in graduatoria sebbene con una gara giocata in meno del team toscano. Senza Denardi, nemmeno partita, e con il forfè all'ultimo minuto di Danesi e Bosetti per una forma influenzale, le azzurre si sono appoggiate ai punti di vita a chi muove. Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.